Ciao Jessica Martedì ore 7.40 siamo già entrati al Kruger Il Lollo è carichissimo, l'Eleonora è carichissima Io sono veramente carichissimo Siamo prontissimi Capa niente Guardate la strada che mi hanno fatto fare questi due 30 km di sterrato E' stato avvistato un elefante C'è il grosso scompiglio E per finire in bellezza la giornata abbiamo bucato E Lollo cambia la gomma L'ho aiutato anch'io mentre l'Eleonora è tornata al ristorante a navigare Comunque Lollo grande prestazione Lavoreremo in Ferrari Sono le 20.31 e siamo pronti per andare a letto Inizia Inizia Siamo a 2000 metri e Leonor Maga ha detto che l'Africa era tutta piatta C'è stato un incidente e tutti ci sono lanciati i contromani in autostrada e Leonor ha detto che sono bizzarri Ti devi buttare, metti la freccia e qualcuno lo deve farti passare Altro che safari, guarda! Ma che safari? Ma dai! Posso fare un giro sul prato? Sì, adesso ci vado, dai! Last day in Sudafrica, facciamo un bel giro per Johannesburg! Ciao! 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 so wait Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati. È finita la vacanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.